No, perché no, io mi scherzo, l'ambulismo, la mia, non ce l'abbia l'ambulismo, tanto che il tuo padre che mi chiesse, facendo così, così, mi sta a montare perché io l'ambulismo è da Giorgio, io non sto qui, sei capolite. C'è un calzetto? Ah, hai visto? Lui rappresenta, diciamo. Allora, da, da, diciamo. Chi ha bisogno di tutti e l'utilizza tutti per l'alzamento dell'alzamento, poi, adesso un'analizia, un'analizia perché allora non c'è chi ha bisogno di questo lavoro. Allora, già mi chiuso di tutti, tutti tutti gli usi, ecco, io volevo. Ho una proposta, ci sono forz 넘ci e tutte le cose che c'è, però, perché il problema, il problema è, che non è che poi qui dà dar capacity, o meno. Facciamo arrivare un skinny politically, se cos'è di questo? Ma c'è di essere così, cioè, sono anche i poteri, non mi hanno credito, perché, in questo punto, si sono diventati ret부�iti? certo che non si dovremmo fare tutto perché anche se si deve rappresentare il numero di strada e allora pure se stiamo nell'alberato votando la lista della cellula in modo positivo come in modo in modo politico che sono sicuramente 5 o 6 quando si viene con lo fatto però è una cosa che deve dire che gestimo noi con i nostri locali, con il Paese nostro, ma non gestimo noi, non gestimosi civili, chi se lo mette? chi se lo mette? a me si mette la friggio, la roba, la salta, chi si chiede a noi a vedere, europei spesso come le vedi, no chi vuole se si porta uno, l'accordo, no chi vuole non si manda un'altra, che ci fa un'altra, che c'è vero, noi gli spada, chi si tratta, che ci fa il nostro lavoro, chi si tratta, che adesso non si tratta, che le vedi a noi, noi gli spada, non sono tutti sicure, che le vedi e le vedi, ma sono tutti con i problemi, ma sono tutti di affermazione elettorale no? Lo primo sicuramente non è vero ci, non lo primo, non dico chissà, però... Ha fatto tutto questo, c'era un messo di impegno solito, cosa dì? Quando si può su una causa, e quindi io e io non ci metto, diamo il massimo, nello stesso tempo poi, non dico il terreno perché non è in natura mia, che dico un rappresentante, però decideremo dopo, a ver, con una discusione. Poi ti dico una parola, che c'era un minuto, un minuto, eo c'era un minuto e un minuto. e sono dovuti di questa mattina, già sono i magistrati, come lavorano per sottotitoli. Grazie. 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 e l'invisibile, capisci? L'acchietà visibile che non funziona, ma l'acchietà invisibile, c'è chi non c'è l'angolamento. C'è apertamente, però, effettivamente, gli invisibili, siamo cittadini, non sanno solo questa provincia, non c'è nulla, non c'è nulla, lui è invisibile. ...un radiofista, vorremmo entrare, poi sono proprio migliore. E dovevo parlare di braga, le vanno andre che non lo assiste giù. Stavolta il Baglia, Nicolta, Rosanna, e c'è un'altra. Andrà che deve fare il palco della massoneria, e sotto della massoneria, però, erano le stesse regole con le stesse posi. Comunque, ci molestà la massoneria, e crei quattro storte, che vorrei chiedere l'altra mia età. e c'è un'altra cosa. Perché, come si dice, faccio parte di quella persona che ha la rivista Caio, è un modello di libertà, non puoi lasciare il borde, il zappatore, e chi ce l'ha passato a me? E lei vuole dire tutto. E come la madre ce l'ha da vivire? E lei vuole dire tutto. O come la madre ce l'ha da vivire? Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.